cari amiche e cari amici ben ritrovati nella rubrica storia di vino e viticoltori quest'oggi è in mia compagnia Nadia Curto che saluto con grande affetto buongiorno Nadia buongiorno a tutti allora Nadia insomma mi sembra quasi tautologico dire che tu nonostante produca diversi vini sei un po' una piccola grande promessa dell'universo valorista più che una promessa ormai sia una certezza sei famosa per quello adesso io non ti voglio incensare troppo però infatti stiamo tranquilli insomma produco varolo con passione e mi piace farlo è proprio una bella una bella cosa ci vuoi raccontare un po' facendo qualche passo indietro la storia della tua cantina sei tu che inizi a produrre vino nella tua famiglia ad esempio in realtà il vino veniva già prodotto nella mia azienda è un'azienda familiare dove il vino viene prodotto da generazioni io ho portato un po' di così così un nuovo sprint perché una volta lavorare in campagna era piuttosto arduo e arrivare alla bottiglia era ancora più arduo insomma una volta le da noi ai tenimenti erano più che altro delle delle aziendine di sussistenza di sopravvivenza il vino faceva parte di un contesto ma generalmente a fianco del vino si faceva si faceva la frutta la verdura i cereali chiunque aveva un un animale un maiale per poi avere i salami durante la carne durante l'inverno c'erano le mucche le mio papà aveva anche qualche qualche pecora che servivano più che altro per i formaggi per fare il latte e per avere il formaggio perché poi la carne una volta si mangiava si mangiava di rado e non è che fossero salutisti era che proprio c'era c'era una situazione abbastanza complicata però cosa dire spesso erano erano i primi a far festa erano i primi a fare le ballere nei vari paesi e a spostarsi da un paesino all'altro per andare anche a divertirsi quindi è vero che erano tempi duri ma non dobbiamo pensarli completamente grigi perché anzi forse avevano anche così la voglia di ritagliarsi dei tempi dove divertirsi e la tua famiglia dove coltivava esattamente è sempre stata lì all'annunziata di la morra anzi mia mamma era originaria di dogliano una straniera e poi mio nonno era mezzadro degli anni e poi si è trasferito all'annunziata dove ha preso dei terreni e le ha prese all'arborina e mia mamma quando andava alla fontana che è al ciotto dove vivo io adesso passava sui piedi a mio padre e mio padre quando ha individuato questa bella ragazzina che aveva nove anni ha detto al vicino di casa questa è la mia e passati un po' di anni se l'è sposata lungimirante esatto esatto quando si parla di barolo si affrontano veramente questioni di lana caprina a partire dalla tessitura dei terreni il famoso tortoniano contro il vezziriano ad esempio passando per le mga le menzioni geografiche aggiuntive che sono ormai non più una novità ma che comunque sono una scoperta se vogliamo definire una scoperta relativamente recente nel territorio di barolo ci potresti dare un'indicazione per sommi capi di qual è l'importanza di la morra se c'è un'importanza di la morra all'interno del microcosmo barolo la morra è una zona molto particolare parto un po' dall'antefatto allora nella nostra zona c'era un mare un mare che era un mare molto profondo tant'è che stiamo parlando di barolo in generale ma proprio delle langhe delle langhe in generale sì sì le zone che sono emerse prima hanno un terreno che è più magro perché ovviamente durante il tempo la corrosione ha fatto sì che le parti più più argillose più grasse andassero a far parte dei detriti insomma e quindi i terreni che sono di serra lunga di diano danno dei vini un po più duri col tannino un po più presente invece dalla parte di la morra abbiamo dei dei sentori un po più delicati un po più floreali e i terreni sono anche un pelo un pelo più grassi anche se poi ci sono anche delle eccezioni perché poi vedremo magari assaggiando assaggiando i vini e spiegherò meglio come come sono i nostri sottosuoli insomma quando ha cominciato a essere famosa la morra per la sua produzione di vino guarda ci sono veramente dei delle testimonianze antichissime già dai romani abbiamo tantissime anfore i romani facevano commercio di vino che partiva dalle langhe e arrivava alla capitale e addirittura c'è un sono stati trovati dei documenti che risalgono all'epoca medievale nel comune di la morra risalgono al 1300 e pensa che è una cosa che io dico sorridendo perché mi fa quasi impressione però fa riflettere c'era una legge che vietava di tagliare le viti nel comune di la morra e la cosa particolare è che se una persona tagliava un numero basso di viti fino a 5 doveva pagare un'ammenda e va bene ma se superava questo numero da 5 a 15 viti doveva pagare in monete d'oro se non aveva le monete d'oro la mano destra gli veniva staccata dal corpo e l'uomo era esiliato non poteva più tornare nel comune di la morra per tutta la vita e se superava 15 è un disastro c'era proprio la pena capitale mandante e mandatario venivano terminavano la loro vita perché era uno sgarro troppo troppo grande e veramente incredibile questa situazione non c'è per le mele non c'è per le pere non c'è per le nessun frutto per l'uva invece hanno fatto questa legge evidentemente il vino veniva già apprezzato e già era un qualcosa di molto prezioso e quindi tu ti ritrovi alla morra con come dire l'eredità dei tuoi antenati sulle spalle e oggi l'azienda come si presenta guarda oggi siamo siamo una realtà piccolina abbiamo quattro ettari in passato questa era la dimensione che veniva coltivata con un bue normalmente e quindi sono molte le realtà di queste dimensioni pensa che dove vivo io l'annunziata siamo 300 abitanti e su 300 abitanti ci sono 30 cantine con l'etichetta siamo veramente tanti a produrre in passato non era così perché molti conferivano le uve o il vino a delle cantine sociali o ad altri produttori più più grandi ma oggi veramente è una situazione molto molto frastagliata molto costellata sicuramente questa grande storia che è alle nostre spalle dei nostri antenati dei nostri nonni è un patrimonio veramente molto molto importante tant'è che oggi noi siamo arrivati alla mia generazione continuando a lavorare senza fare senza ricorrere ad enology ma lavorando sull'esperienza questo è un punto molto importante perché io penso che non tutto sia scritto sui libri e occorre avere una grande sensibilità per fare questo tipo di lavoro e quindi questo questo evolversi di generazioni questo continuo a lavorare in modo empirico ci ha portato oggi a poter creare dei vini che così rispecchiano molto l'autenticità della nostra zona delle nostre terre e anche così della nostra storia guarda senza nasconderci dietro un dito come con tutti noi possiamo dire di esserci sentiti per uno scambio di opinioni relativi a quelli che avremmo voluto essere i temi da portare in puntata e proprio in merito a questi temi secondo me il fare a meno di un enologo può essere sicuramente da un certo punto di vista soprattutto per una cantina che non abbia una grande esperienza di terra un grande rischio però laddove c'è esperienza l'assenza di un enologo permette alla cantina di esprimere in maniera più verace più veritiera quel rapporto artigianale che esiste in maniera diretta tra il produttore e le sue vigne non so se sei d'accordo? Senza dubbio sono d'accordo quello che noi vogliamo ricercare non è la perfezione del vino o meglio la vogliamo ricercare la perfezione ma che sia una perfezione non costruita una perfezione che venga proprio dall'uva dalla posizione del terreno da tutto quello che ci offre l'ambiente e siccome siamo in un microclima fortunatissimo non posso nascondermi non posso nascondere la realtà sono fortunata sono nata in un posto veramente molto vocato e quindi noi dobbiamo essere un po' anche dei così chi salvaguardia una posizione perché è successo anche racconto un attimo quello che a me sembra un po' quello che si è successo in Langa in passato tutti erano poveri e tutti si facevano il vino perché ovviamente non c'erano i soldi per poter investire in tecnici, enologi, consulenti il vino si faceva come era stato appreso dal nonno, dal padre e tutti magari ci mettevano un po' del proprio perché anch'io se ritengo che in qualcosa sia migliorativo lo applico insomma facendo magari non cominci con la massa intera però passo passo fai degli esperimenti che ti portano ad avere quello che tu ritieni essere il meglio anche il meglio dei tempi perché magari anche nel corso dei tempi i gusti cambiano siamo passati magari da vini del contadino che avevano magari anche odori un po' forti che però diciamo nel medioevo gli odori erano all'ordine del giorno poi andando avanti nel tempo i vini si sono puliti sono diventati più apprezzabili anche dal punto di vista olfattivo ma una volta non c'era neanche l'acqua da poter pulire le vasche l'acqua si prendeva dal pozzo che poteva essere pulita come no quindi diciamo che oggi i tempi si sono evoluti e si sono anche evoluti i gusti c'è stato un momento negli anni 80 dove i vini dovevano essere grossi dovevano avere una triplice spalla, dovevano essere molto molto invasivi oggi si cerca di nuovo un'eleganza, una chiamiamola normalità quando i contadini non avevano questa possibilità facevano dei vini a loro modo e comunque hanno portato avanti una storia con questi vini poi oggi più o meno sono diventati tutti ricchi perché alla fine adesso il barolo va c'è tutto un meccanismo che funziona molto bene e la gara è quasi quella di prendere il migliore enologo che c'è sul mercato quello più importante, quello che prende più premi quello che è, quello che è e alla fine tutti si rivolgono all'incirca agli stessi nomi per cui alla fine si ha per carità una crescita di qualità perché ci mancherebbe che un esperto non sappia fare i vini buoni li saprà fare più che buoni però in questo modo si ha un appiattimento e una situazione molto standardizzata che non è tipica delle nostre zone noi siamo veramente quelli che fanno dei vini col cesello ognuno fa il suo il nebbiolo poi si presta molto io vorrei far notare che è difficile trovare nebbiolo in etichetta perché il nebbiolo ha delle sfaccettature talmente importanti talmente localizzate che a seconda di dove cresce da vini completamente diversi parlando di macroare nella nostra zona solo il nebbiolo dà già origine al barolo, al barbaresco, al roero che sono tre grandi e importanti denominazioni se si va nel nord Piemonte Gattinara, Gemme, Sizzano, Bocca, Lessona, Fara sono tutti nomi di vini che derivano dal nebbiolo ma ogni microzona è quella di origine vulcanica è quella di origine morenica dà origine a sfaccettature talmente diverse che alla fine quasi il nebbiolo non si legge quasi mai in etichetta porta sempre il nome del luogo se noi di un MGA di Lamorra andiamo a utilizzare permettimi il termine l'enologo che lavora anche per Serlarunga che lavora per i baroli di Monforte cosa succede? si ha un appiattimento, si ha una standardizzazione si ha una copertura di quello che è l'origine naturale del vino e quindi secondo me insomma è un po' importante non sempre fare a gara di chi ha il vino che è perfetto bisognerebbe ogni tanto fare a gara di riuscire a caratterizzare il proprio vino per essere sempre riconoscibile per capire che quel vino viene da un determinato territorio viene da una determinata posizione da una determinata collina e quindi tu per uscire da questo occhio del ciclone del fare vini griffati dallo stesso enologo più cantine come fai? che cosa hai scelto di fare nella tua cantina? che filosofia adotti? io ho scelto sicuramente una strada un po' più lunga che la strada empirica però devo dire che sono anche molto fortunata perché non ho iniziato da zero nel senso che comunque mio padre e mio nonno vinificavano anzi entrambi i nonni e poi mio zio e il fratello di mia madre e gli altare che è anche un grande nome nell'ambito dell'enologia è vero che opero in modo lavoro molto sulla pratica ho dei protocolli che seguo che durante gli anni ci siamo creati e questo mi permette di arrivare ad avere un risultato così dignitoso semplicemente col nostro lavoro a proposito del tuo lavoro te la sentiresti dire qual è l'eredità che ti ha trasmesso tuo zio Elio e quella che ti ha trasmesso invece tuo padre? guarda ti stupirò non è una cosa pratica è una cosa che si sente mio papà ha 87 anni io sono qua a parlare al microfono lui è in vigna siamo in inverno fa freddo lui è in vigna a potare ha 87 anni mio zio ha vissuto una gioventù un po' nella povertà una gioventù dura per il lavoro agricolo per la non stima per come la gente ti guardava in modo sprezzante quando dicevi di essere contadino lui ha portato una dignità una voglia di emergere col proprio lavoro non ha voluto far l'avvocato anche se la testa ce l'aveva perché è intelligente non ha voluto fare il medico ha voluto continuare a fare il contadino portando questo lavoro ad una dignità che prima non aveva ci sono stati tanti piccoli contadini che si sono fatti forza e oggi dire sono contadino fa quasi figo non è più una cosa da nascondere è quasi una cosa che ma adesso sono industriale a voler venire da noi e fare i contadini e dire io faccio il vino perché è bello una volta invece la gente scappava dalla campagna non ci voleva restare oddio è bello se non fai davvero il viticoltore no quello che voglio dire è che è bello il concetto di lavorare la terra di fare il contadino hanno veramente portato e lasciato a me un'eredità di dignità che prima non c'era cioè non voglio dire prima non c'era perché poi tipo mio papà aveva avuto una raccomandazione per andare a lavorare alla Fiat perché lavorare alla Fiat negli anni 70 era qualcosa che nobilitava rispetto a rimanere nelle campagne nostre però non c'è andato non ce l'ha fatta non ha lasciato la sua terra non ha lasciato il suo bue che aveva un nome con cui aveva un rapporto oggi abbiamo tanti qualsiasi animale ci sia in casa mia mio padre riesce quasi a educarlo perché c'è proprio un amore verso quello che si fa verso quelle che possono sembrare le piccole cose ma per me sono le nostre radici per me è la vita per cui penso che l'eredità che mi abbiano dato non sia tanto usare una botte grande una botte piccola diradare un po' di più diradare un po' di meno secondo me la grossa eredità è stata proprio fai del tuo meglio credici vai avanti fallo con dignità non abbassarti mai nel nostro lavoro devi essere forte è un lavoro che richiede proprio una così una resilienza una una forza d'animo notevole come ho detto in apertura di incontro con te nonostante tu faccia molti vini tra cui un paio molto interessanti di cui ne abbiamo uno all'assaggio oggi che sono due new entry nella tua batteria tu sei celebre per i tuoi baroli sei celebre anche perché chi non è a digiuno di informazioni vitivinicole sa che tu senza usare delle etichette precostituite sei comunque una viticoltrice che potremmo definire senza tema di smentita ecologica sarei curioso a questo proposito di sapere la tua convinzione nei confronti di un di una condotta ecologica come si traduce in campo e come si traduce in cantina il tema dell'ecologia per me è un tema molto importante io penso che la natura da sola sappia rispondere molto bene a quelle che sono le sollecitazioni per cui secondo me bisogna proprio cercare di accompagnare la natura non andare a sconvolgerla certo noi lavoriamo nella monocultura perché alla fine noi in Lang abbiamo principalmente vite anche se sarebbe importante proprio impegnarci a lasciare dei terreni a bosco insomma di cercare di mantenere un ecosistema un po' più bilanciato leggo leggo una velata polemica ad una situazione di dibattito che c'è in questo momento su allargamento dei terreni a Barolo ma sorvoliamo no non sorvoliamo dai due paroline solo due paroline mettici due paroline ma veloci eh si sta discutendo per ampliare la possibilità di fare il Barolo anche a nord e questa cosa a me sconvolge perché adesso gli unici spazi veramente dove la vita non è predominante sono i terreni a nord è vero che c'è stato un cambiamento climatico è vero che probabilmente le uve verrebbero bene anche a nord ma perché dobbiamo allargare ulteriormente queste aree quando già su tre versanti siamo al completo le uve sono arrivate a essere piantate anche in bassa collina proprio perché col cambiamento climatico maturano anche sotto insomma c'è già una gran parte che è coltivata probabilmente economicamente si potrebbe anche fare il Barolo Nord ma io spingo a non fare il Barolo Nord non per una questione di qualità del vino ma per una questione di lasciamo una parte del terreno respirare in modo più selvaggio perché siamo già arrivati secondo me in una situazione a tappo dove se ancora andiamo a spiantare a togliere quel poco verde che abbiamo per piantare altro Barolo altro Nebbiolo veramente non c'è limite insomma ti si ingrossa la vena è bravo bravo mettiamo dei limiti insomma non dobbiamo esagerare parentesi chiusa a questo proposito ne apro un'altra e poi concludiamo sul discorso dell'ecologia in vigna in cantina cioè visto che abbiamo parlato di ecologia volevo sapere cosa ne pensi di una teoria portata avanti da un filosofo contemporaneo che si occupa di ecologia è un giapponese e che ha studiato i quaderni di scienze naturali di Karl Marx che sono una serie di scritti cioè non è che sono proprio dei volumi sono una serie di scritti diversi che non hanno niente a che vedere con il capitale o i Grundris chi li ha letto non c'è niente di male nel leggerli però non hanno niente a che vedere con quello in quei quaderni cioè in quegli appunti sparsi Marx si occupa di ecologia mescolandola tra virgolette con istanze di carattere politico politico nel senso che l'ecologia per Marx è un valore politico ovvero è un valore che dovrebbe interessare un consesso umano quindi che sia questo un paesino come l'annunziata che sia un areale geografico di produzione come potrebbero essere le langhe o come potrebbe essere il chianti classico che sia uno stato o che sia un continente il discorso non cambia cioè l'ecologia dovrebbe essere un valore politico dovrebbe si dovrebbero spingere tutti a approfondire il tema e a esprimere la loro opinione questo è il punto di partenza la teoria che invece è una teoria di saito e semplicemente si chiama saito questo professore che ha studiato questi libri e ha portato ai giorni nostri quello che lui ha letto in quei libri ovvero ha immaginato che ai giorni nostri non sarebbe tanto lontano dalla realtà pensare che il pensiero marxista avrebbe condannato il capitalismo nel suo volto attuale nell'occidente sviluppato ovvero il consumismo quella filosofia per la quale tu esisti in quanto consumatore se non consumi non esisti perché il consumismo barra capitalismo è alla base anche non soltanto ma anche dell'attuale crisi ecologica ovvero parlando di alimentazione senza entrare poi in altre sfere che non ci attengono o almeno non attengono questa rubrica deforestazione come dicevamo prima monoculture intensive e diciamocelo chiaramente Barolo è vero che è una monocultura ma è un pezzettino piccolo piccolo sappiamo che esistono ettari e ettari di terreno non solo in Italia coltivati a tendone a 400 quintali per ettaro che servono a fare i vini che finiscono a 2 euro sullo scaffale dei supermercati quindi dicevamo deforestazione sfruttamento intensivo monoculturale dei territori estinzione di specie sia floreali che faunistiche insomma questo è il pensiero credo più di quei saito che non di Marx tu cosa ne pensi? senza dubbio bisogna approcciarsi all'ecologia come veramente un argomento importante che ci tocca non è che perché uno fa un altro mestiere vive in città non è non possa essere sensibile a questo argomento e sicuramente produrre in un modo etico in un modo a lungo con una visione molto ampia è indispensabile e diventerà lo diventerà sempre di più diciamo che in passato c'erano io ho visto anche le generazioni dei miei genitori eccetera c'era un approccio molto molto umano verso l'agricoltura però c'erano anche poche esigenze mio papà non è mai andato in vacanza ma non è stata una sofferenza nel senso che lui dice dove si sta meglio di qua riferito ai vigneti o a casa sua non ha l'esigenza di avere la griff indossata non ha l'esigenza di avere di avere il cibo esotico insomma una volta il contadino era una persona molto più umile oggi il mondo è cambiato tutti hanno delle esigenze diverse e quindi c'è un'accezione più capitalistica anche del lavoro contadino importante però rimanere sempre molto con i piedi per terra e fare attenzione perché noi calpestiamo un patrimonio che è unico cioè noi non stiamo dando il surplus noi stiamo dando le basi l'agricoltura è quella che ci nutre che nutre il pianeta è quella che preserva il pianeta è quella che deve portare il nostro il nostro ambiente in avanti in futuro che abbia una propensione futura un tuo amico che ho con cui ho avuto modo di scambiare quattro chiacchiere sempre a questo tavolo sto parlando di Patrick Uccelli ha sostenuto una tesi che mi ha fatto molto riflettere devo essere onesto perché non ci avevo mai pensato in questa chiave ovvero noi siamo quello che mangiamo non siamo quello che mangiamo soltanto da un punto di vista fisiologico nel senso che se mangio sano probabilmente il mio organismo non starà meglio che se mangio non sano ma anche in chiave tra virgolette passando il termine psicologica è fondamentalmente anche il cervello è un organo e anche il cervello va alimentato se lo alimenti con gli hamburger di una nota catena americana che non voglio rominare sai benissimo che l'umami il glutammato e gli zuccheri presenti nei suoi hamburger ti daranno una serie di scariche di dopamina che faranno sì che tu voglia ancora mangiare quel cibo ma se tu per poi un certo periodo di tempo smetti di mangiarlo entri in depressione ad esempio senza dubbio c'è una grandissima verità in questo e il cibo è molto importante sia dal punto di vista di alimentare proprio perché andiamo avanti grazie grazie al cibo la nostra energia deve essere un'energia pulita usando un termine ampio nello stesso tempo è anche una cosa che unisce che tiene sulla famiglia che è un simbolo d'amore un simbolo di affetto quante volte la nonna ci ha fatto dieci volte il cibo di cui abbiamo bisogno l'ho fatto perché ci vuole bene perché nutrirci nutrire il prossimo è anche un modo di tenere assieme la famiglia di dire ti voglio bene di dire sei importante e quindi insomma c'è tanto nel cibo c'è sia un valore proprio pratico del tipo io ti nutro bene e così tutti i tuoi organi funzioneranno bene e eviterai sarai anche più forte di fronte alle malattie ma c'è anche una valenza così umana perché trattare bene il prossimo vuole anche dire nutrirlo bene o semplicemente piantare qualche pianta di pomodoro per avere dei pomodori genuini da poter offrire d'estate questa è una terza chiave di lettura che faccio mia e che mi riservo poi di approfondire torniamo però alla tua filosofia produttiva ecologica stavamo parlando di quello che tu metti in atto in vigna e poi di quello che tu metti in atto in cantina partiamo prima dalla vigna ci puoi dare qualche come dire insomma indicazione di quello che ami fare come ami prenderti cura dei tuoi terreni e delle tue vigne noi lavoriamo in un regime biologico però questo è secondario nel senso che non è tanto importante per noi avere la certificazione biologica quanto piuttosto appunto lavorare in un modo in sintonia con la natura valorizzando molto il terreno il terreno lo nutriamo con con dell'etame insomma con con ammendanti naturali per me è molto importante tenere la vitalità nei terreni e noi teniamo anche il terreno inerbito perché lo teniamo inerbito perché comunque l'erba fa come una coperta sul sul terreno che lo protegge sia dall'erosione e sia anche dal dalle intemperie dal sole dalla pioggia un manto sul terreno e come una protezione una volta si diceva che l'erba andava in competizione con la pianta per cui si usavano questi diserbanti si usava di tutto pur di togliere ogni filo d'erba che poteva inquinare il terreno a casa nostra invece si lavora in un modo totalmente all'opposto l'erba è un alleato del terreno e quando dico che usiamo l'etame vado un po' nel dettaglio le mucche non digeriscono i semi quindi noi ci portiamo nei vigneti tantissimi semi anche di fiori di montagna insomma e quindi arricchiamo il terreno poi sotto questa prima sotto la parte più superficiale l'humus che si va a formare con tutto il suo ecosistema con gli animaletti con gli insetti che lavorano il terreno fanno sì che questa terra sia molto ricca e vitale per cui noi abbiamo delle piante che sono state piantate da mio nonno quindi sono piante centenarie che continuano a produrre e a fare il loro dovere perché sono piante che non sono stressate che stanno bene e che ricevono dal terreno quello di cui hanno bisogno anche in situazioni così un po' più complesse le piante che non sono troppo abituate ai trattamenti sono piante che sono resistenti che rispondono che lottano insomma e quindi il concetto è proprio scusate il concetto è proprio un po' quello di intervenire ma in modo naturale utilizzando solo prodotti che la natura ci dà e non andando a lavorare con dei prodotti di sintesi insomma della chimica costruita e cerchiamo appunto di portare a termine di portarci a casa una vendemia sana in questo modo anche in cantina usiamo lo stesso principio della naturalità in primis facendo fermentazioni spontanee come ho detto prima l'uva non vede chimica di sintesi quindi è un'uva integra è un'uva che ha lieviti sulle bucce forti che possono così indurre facilmente una fermentazione e poi forse è superfluo dirlo ma un'uva che che non vede chimica è un'uva che sa di uva sa estremamente di uva sa di uva in un modo esponenziale rispetto a dell'uva che così viene viene trattenuta non viene fatta maturare proprio tramite delle sostanze chimiche guarda ti dico come definiva il tipo di uva cioè quella trattata un mio amico viticoltore che tra l'altro prenderà parte anche questo progetto parlava di queste uve come di uve stirate e pettinate giusto io le chiamo plastificate più o meno il concetto è un po' quello uve ingessate no le uve non devono essere ingessate devono potersi esprimere e quindi anche in cantina seguiamo un po' questo questo metodo di fare fermentazioni spontanee poi non filtriamo non chiarifichiamo per avere dei vini limpidi i vini giovani in particolare utilizziamo un metodo così antico di mettere i vini all'esterno in modo tale che il freddo faccia precipitare i tartrati in questo modo noi avremo dei vini limpidi ma senza aggiungere nulla di esterno anzi tenendo il tessuto originale che abbiamo la texture bella del vino vivo beh siamo quasi arrivati al momento dell'assaggio dei vini e quindi poi ce ne spiegherai uno per uno però visto che come ho già detto due volte ma ripetita Juvent quando si parla di Nadia Curto si parla dei suoi Barolo vogliamo un attimo ampliare lo sguardo su tutta la tua produzione enologica nella tua cantina e così ci racconti un po' che cosa produci di altro cioè ci fai una sintesi vorrei un po' farti uscire da questo cono d'ombra del Barolo anche perché insomma comprare un Barolo ben fatto oggi ha un costo non eccessivo ma sicuramente importante e credo che almeno se io ancora fossi nella mia ex enoteca di Roma prima di vendere un Barolo firmato curto credo che venderei altri vini firmati curto per far capire la mano della produttrice in che direzione va quindi per uscire da questo cono d'ombra a te la parola facendo un discorso sui nostri vini allora il primo vino che produciamo è il dolcetto il primo ad essere raccolto il primo vino che esce quello più fresco quello che riporta proprio i gusti dell'uva nel bicchiere il dolcetto viene da una posizione molto bella perché viene dalla Gattera che è famosa per quel cedro del Libano che sovrasta la colina della Gattera solo che è subentrata una legge dove praticamente se i crustano del Barolo il nome non può più essere messo sugli altri vini per cui ho cancellato dolcetto Gattera è rimasto semplicemente dolcetto d'alba però viene da questa bellissima posizione poi abbiamo un po' di Barbera anche se il vigneto principale ho dovuto toglierlo a causa della fravescenza già dorata ma ne parlerò dopo perché ne abbiamo tirato fuori un altro bel vino nato proprio per questa necessità e poi abbiamo un vigneto assolutamente particolare che è della Freisa dico assolutamente particolare perché questa Freisa è stata piantata nel posto più bello che abbiamo cioè sulla punta della colina dell'Arborina quando la colina diventa piatta noi abbiamo praticamente metà parte nebbiolo da Barolo che usiamo per fare Barolo Orborina e l'altra metà è stata piantata con la Freisa e questa è una cosa molto curiosa cioè in passato non lo era curiosa perché comunque la Freisa era considerata un vino importante ci sono delle belle testimonianze anche il re Vittorio Emanuele II quando andava a Fontana Fredda beveva Freisa con la selvaggina che cacciava insomma ha una certa autorevolezza però poi nel corso del tempo questa Freisa ha un po' perso la sua fama poi la Freisa è stata piuttosto si è cominciato a vinificare la Freisa soprattutto frizzantina un po' dolcina non nelle Langhe nelle Langhe no perché noi abbiamo una tradizione diversa però in altre aree è stata cominciata si è cominciato a vinificarla in modo diverso per cui da noi anche la Freisa è un po' scesa è stata un po' dimenticata la Freisa è comunque un parente del Nebbiolo perché il Nebbiolo non è il padre poi non si sa nella realtà quale sia l'altro incrocio l'altro vitigno si è mappato il DNA ma nella realtà non si è riscontrato ancora l'esistenza e oggi praticamente la Freisa viene vista comunque come un vino che riporta un po' al passato perché la Freisa ha molte delle caratteristiche del Nebbiolo però è un po' più grossolana è un po' più rustica porta un po' di più le note del vegetale del cuoio anche con note fruttate anche importanti perché il nome Freisa deriva da fraise che vuol dire fragola in francese e quindi ha note molto più immediate molto più ricche magari ha un po' meno struttura è un po' meno lunga del Nebbiolo nel senso che sia in termini immediati di assaggio ma anche in termini di invecchiamento i tenoni della Freisa sono leggermente diversi sono presenti però forse non danno proprio la stessa complessità che ha il Nebbiolo comunque è un bellissimo vino che insomma meriterebbe anche uno spazio maggiore io purtroppo non ne produco molto perché poi alla fine l'appezzamento è piuttosto piccolo però insomma con le poche bottiglie poche ma buone ho capito versiamo i vini versiamo i vini dai i vini li abbiamo versati e adesso cedo nuovamente a te la parola partendo dal primo vino che si chiama l'Informale ti chiedo di raccontarcelo l'Informale l'abbiamo chiamato così perché quando c'è stato il lockdown abbiamo pensato di togliere il vigneto di Barbera di fare dei lavori strutturali perché avevamo tempo insomma noi potevamo lavorare in campagna quindi abbiamo tolto la Barbera e abbiamo piantato del Nebbiolo perché il Nebbiolo è più resistente alla flavescenza e voglia a caso subito dopo che abbiamo piantato il vigneto ci è piovuto sopra noi nel frattempo prima di piantare avevamo anche microrizzato le piante ossia messe a bagno in funghi in queste microrizze che danno si sposano con le radici e danno veramente più forza alla pianta l'aiutano a crescere meglio una combinazione di cose noi a settembre ci siamo trovati ad avere già una piccola produzione di Nebbiolo con dei grappoli molto molto belli cosa ne faccio cosa non ne faccio perché insomma anno zero avere già una produzione fa specie allora ho preso queste uve e le ho vinificate aggiungendo un po' di dolcetto e cosa è successo abbiamo avuto un bel vino da beva insomma con un carattere un po' più snello e mi sembrava adeguato il nome l'informale perché proprio indica un vino senza pretese così da aprirsi in ogni momento adesso sono passati due o tre anni e veramente forse il nome è sbagliato perché è venuto un bel vino con un bel tannino il Nebbiolo sta spingendo molto insomma ha raggiunto una bella complessità infatti era proprio quello che ti volevo dire perché io nel frattempo mentre tu parlavi lo stavo assaggiando allora finché mi dici questo è un vino informale sì d'accordo è un vino informale però definirlo come vino immediato o vino semplice mi sembra fargli un torto un pochino grande perché questo è il signor vino se tra l'altro io lo so perché ovviamente so dove sono in vendita i tuoi vini quindi però se tu ci vuoi dire quanto costa l'informale quanto costa il pubblico quanto costa su uno scaffale di un'enoteca sarà sui 18 euro ecco appunto che dire intanto mi sembra quasi incredibile cioè non è che non ti creda io ti credo però proprio perché ti credo ti come dire confido che sembra quasi incredibile che questo sia un nebbiolo con un saldo molto importante di dolcetto perché conosco senza fare nomi perché non è per niente carino ma conosco molti produttori di nebbiolo anche rinomati i cui loro nebbiolo in purezza di fronte a questo impallidiscono vabbè grazie ti ringrazio però Nadia io scusa perdonami come dire io capisco che tu sia una persona come dire anche con una certa dotata di una certa vere condia passami il termine quindi hai i ponfi rossi sulle guance quando uno parla bene però diamo a Cesare quel che è di Cesare questo non si può dire che un vino così a 18 euro che vuoi che ti dica è tanta roba direbbero i romani io sono ho vissuto a Roma fino a sei anni fa quindi è proprio tanta roba mi fa piacere mi fa piacere ma mi fa piacere anche poter permettere di bere bene a prezzi insomma non esagerati perché comunque il vino per noi è un patrimonio diciamo anche è una cosa da bere anche quotidianamente non è uno sfoggio ci sono ci sono certe nazioni che non hanno vini per cui il vino lo vedono veramente come un bene di lusso una cosa che deve essere aperta quasi per dimostrare uno status sociale il nostro status sociale è che noi il vino lo beviamo ci piace berlo e quindi insomma bisogna anche un po' supportare questa filosofia il vino serve per essere felici mica per essere squattrinati per perderci tutti i soldi che abbiamo bisogna anche poter bere con diciamo un investimento adeguato permettimi di aggiungere anche alcune indicazioni per chi sta seguendo il nostro incontro perché vorrei che capissero al di là del fatto che mi sono sperticato in lodi come è composto questo vino quali sono le architetture interne di questo vino i pesi e contrappesi sui quali questo vino si regge allora io partirei innanzitutto da facendo un torto a quella che è l'analisi organolettica che le varie associazioni di sommelier suggeriscono quindi parti dal colore poi il naso poi il palato ecco in questo caso avverto l'esigenza molto chiara di partire dalla dimensione tattile dal palato perché prima di tutto c'è da fare veramente dei grandi complimenti lo so che sono inanimati quindi non li percepiscono come complimenti ma c'è da fare i complimenti ai tannini perché una trama tannica così presente è presente ma senza eccessi ovviamente e al contempo così setosa beh non è proprio una cosa che è tanto facile incontrare bei tannini molto delicati profumi direi sicuramente la dimensione floreale che tu avevi già anticipato una dimensione floreale molto delicata però quindi che ti posso dire una una rosa assodiquori un putpurri rosa assodiquori non un putpurri rosa di violetta ad esempio un po' di tabacco biondo sicuramente e poi c'è un precursore aromatico che io ritengo sempre molto ghiotto ma per un motivo molto semplice mi riporta alla mia adolescente senza ora non so se tu sai che cos'è la grattachecca il ghiaccio grattato su cui si mette il limone no su cui si mette lo sciroppo lo sciroppo lo sciroppo ghiaccio tritato su cui si mette lo sciroppo a 200 metri a piedi da casa mia sulla via di casa mia ad angolo a 200 metri c'era il gabbiotto della più celebre grattachecca di Roma che era la sora Maria e io nella mia adolescenza ma anche nella mia gioventù facevo file anche di un'ora per mangiare sì perché tu non hai idea cioè tu ti trovavi tranquillamente nelle ore di punta ti trovavi tranquillamente 50 persone davanti per prenderti una grattachecca dalla sora Maria quello che volevo sottolineare con questo racconto è che uno degli odori che più mi piacevano della grattachecca era lo sciroppo di amarene fabbri con le amarene intere che veniva versato sul ghiaccio perché dico questo perché se dovessi ragionare in termini di sciroppo di amarene ti direi no lo sciroppo di amarene è molto più profondo è molto più denso ma se tu immagini una grattachecca allo sciroppo di amarene quindi lo sciroppo di amarene diluito nell'acqua poi alla fine questo è il concetto allora ti posso garantire che il profumo e anche il sapore principale che emerge sono proprio molto nitidamente a costacco stabili a quello sciroppo di amarene allungato con l'acqua nella fattispecie ghiaccio è molto poetico che bello bene e adesso vedo con mio grande come dire piacere che hai deciso di portare due baroli che sono il barolo la foia e il barolo l'arborina sono i due baroli che produco ok tu ne produci anche un terzo che è il riserva di la foia dipende ho già fatto sia a riserva dell'arborina sia a riserva della foia dipende un po' dagli anni non è dipende raccontaceli tutti e due perché credo che ci sia una storia dietro alla scelta al di là del fatto che sono due crew diversi ma credo che ci sia anche una storia dietro alla scelta di come vinificare uno e come vinificare l'altro che affonda dalle sue radici nel discorso che avevamo appena toccato quando abbiamo parlato di tuo zio cioè la famosa rivoluzione dei barolo boys quindi a te la parola io vengo un po' da due scuole una è quella di mio padre e una è quella dello zio inizialmente quando ho imparato a vinificare ho seguito il modello di mio padre con delle macerazioni lunghe e anche l'utilizzo di botti grandi di legno per per l'affinamento poi a un certo punto insomma avevo la necessità di di imparare qualcosa in più qualcosa qualcosa di avere una spinta e mio zio eglio mi ha detto guarda Nadia se vuoi ti do una mano ti do due dritte se ti fa piacere puoi venire anche a lavorare da noi se se puoi pensare che la cosa sia interessante allora ho preso la palla al balzo sono andata a lavorare dallo zio e lì ho cominciato a prendere un po' familiarità con quello che è la fermentazione più breve l'utilizzo delle barrique la vendemia verde molto molto importante insomma ho cominciato a prendere familiarità con delle attitudini che si riferivano proprio al modo di vinificare di questi Barolo Boys apro parentesi su chi è questo gruppo su come è nato allora fino agli anni 70 mio zio va in Borgogna assolutamente per una cosa di piacere nel senso di conoscere come era il mondo dal di là delle Alpi e comunque quando va in Borgogna vede già un mondo molto molto più avanti rispetto a noi da noi il contadino era era una persona in difficoltà era una persona che si trovava sempre strozzata a dover vendere queste uve sempre a meno sempre considerato sempre un po' l'ultima ruota del carro e non c'era modo di così di sfrancare di uscire da questa situazione la Borgogna si è trovata di fronte ad un altro vigneron che lo insomma lo accoglie in una bella casa in una bella cantina con una aveva una macchina sportiva dopo che avrebbe finito la degustazione sarebbe andato in Costa Azzurra perché si era comprato una barca per fare il sailing insomma una situazione totalmente diversa da quella di mio zio dove arrivava con un'utilitaria con i cuscini in macchina perché ha detto mal che vada se non i soldi da pagare l'hotel dormo in macchina insomma io ho due cuscini me li mettono e quindi partono due mondi proprio molto molto diversi in Borgogna i vigneroni erano già una potenza erano già considerati erano già delle star invece in Piemonte insomma faticavano ad andare avanti e niente questi dal ritorno da questo viaggio mio zio comincia a dire ma magari invece che fare queste macerazioni molto lunghe provassimo a fare delle macerazioni più breve per estrarre un po' più di frutto si è cominciato un po' a guardare al nebbiolo un po' come si lavorava il pino nero studiando il modo per avere dei vini un po' più accattivanti nel frattempo c'è da dire che in Langa non tutti ma alcuni contadini si erano un po' fatti prendere la mano perché da noi le fermentazioni erano molto lunghe ma anche per un motivo tecnico perché si arrivava in autunno si avevano tanti lavori ancora da sbrigare prima che arrivasse la neve importante quindi magari dovevi andare appunto a concimare i terreni dovevi sgranare il mais dovevi insaccare le nocciole che erano essiccate al sole dovevi fare tanti lavori che portavano via tempo per cui alla fine si arrivava a svinare magari anche a Natale o a volte anche a Gennaio si lavorava col cappello sommerso proprio anche per avere un po' meno di lavoro nel senso che si mettevano delle assi sul cappello di bucce poi si puntava un palo che tenesse giù il cappello affondasse un po' e in questo modo si lasciava macerare il vino per lungo tempo però poi cosa succedeva questo cappello dopo tanto tempo cominciava ad affondare per cui era facile che questi vini partissero già anche un po' ossidatini sin da subito però in Langa questa cosa era vista anche bene tant'è che c'è stato un momento dove il nonno conservava le bottiglie in soffitta per farle maturare prima insomma per dargli sentori un po' ossidativi sin da subito beh io non nascondo che se il vino ha un leggero sottolineo leggero sentore ossidativo a me piace questo devo confessarlo sì dipende dall'età anche del vino perché subito uscire con un vino giovane già un po' ossidatino va poi a finire male devi essere cosciente del fatto che come dicevano i latini est modus in rebus nel senso che se tu compri un vino di quel produttore che sai che lavora con quello stile ossidatino oppure con una volatile appena accennata sai anche che quel vino una volta comprato lo puoi tenere uno o due anni e basta non puoi pensare di farlo invecchiare però adesso era soltanto un inciso prego torniamo al tuo narrato beh insomma questo maderizzato faceva piacere infatti quando dicevano al barolo è marsalato lo dicevano facendo un complimento al vino e poi c'era anche un po' la così la il piacere di bere baroli molto invecchiati perché queste lunghe macerazioni portavano un tannino molto importante anche le stagioni erano diverse c'era un'acidità diversa nel vino i vini erano più squadrati e quindi questo tannino così maturava col tempo e il barolo era quasi diventato un fine pasto cioè non era la bottiglia che aprivi per mangiare per mangiare si apriva il dolcetto si apriva la barbera ma il barolo veniva servito in un bicchierino o con la carne o con i formaggi o proprio anche a fine pasto col dolce e veniva dato così un po' come bevanda per scaldare il cuore insomma aveva un po' quasi perso i connotati del vino da beva quando mangi e questa situazione aveva portato a bere molto poco barolo il barolo era in crisi si vendeva tanto dolcetto si vendeva tanta barbera ma di barolo se ne vendeva poco e poi invece negli anni 70 era un po' in crisi anche inizio anni 80 allora questi ragazzi hanno cominciato un po' a guardare alla Francia hanno cominciato a fare una maggiore attenzione a quella che era la cura nei vigneti vendemmiando già quando lui era togliendo il surplus di produzione scusa intanto hai detto giustamente una cosa perché chi è già al corrente della storia di barolo boys trascura un dato che secondo me è molto importante cioè stiamo parlando di ragazzi comunque sì è vero erano ragazzi oggi insomma quel gruppo ha sui 70 70 anni insomma e sono ancora ragazzi però loro lo erano di più e questi questi ragazzi hanno cominciato a utilizzare la barrique a fare dei vini più succosi insomma all'inizio hanno portato veramente una forte ventata di novità tant'è che le prime commissioni non passavano non riconoscevano neanche il barolo come barolo non lo passavano neanche come le prime commissioni della doc non accettavano questo tipo di vino come tutte le rivoluzioni subito sono molto forti quindi i vini che ne derivavano erano molto diversi da una parte c'erano i vini tradizionalisti all'altra c'erano i vini modernisti che veramente mal si incontravano erano proprio spesso spinte all'eccesso da ambo le parti poi nel corso del tempo ovviamente tutte queste diversità così forti si sono leggermente ammorbidite e oggi molte attitudini che erano considerate dei modernisti come anche quella di fare la vendemmia verde sono sta o fare delle macerazioni anche un po' più brevi sono state portate anche nell'ambito della della tradizione e oggi c'è stata un po' come dire una oggi tutte le asperità si sono un po' in una via intermedia fatta l'introduzione da quale Barolo iniziamo la degustazione allora cominciamo col Barolo la foia che è quello col taglio più classico ah il Barolo col taglio più classico scusa prima di iniziare così almeno cerco di avere un approccio con questi vini equilibrato prima di iniziare qual è il prezzo dei due vini sarà sui 50 euro io adesso non sono preparatissima però ok sui 50 euro l'uno per l'altro l'arborino è un pelo più caro non tantissimo insomma l'arborino è un pelo più diciamo 55 bravo sì ok perfetto d'accordo allora a te la parola sulla foia mentre io lo assaggio allora la foia viene dal versante ad est della colina dell'arborina e lo vinifichiamo con una macerazione all'incirca di tre settimane e poi il passaggio in grandi botti di rovere per due anni poi al terzo anno lo mettiamo in bottiglia ovviamente senza né filtrare né chiarificare ci può essere un'aggiunta minima di solfiti ma veramente minima infatti insomma la foia attualmente è andata in bottiglia con 15 di solforosa totale ricordiamo che la la legge permette nel biologico 120 milligrammi litro in quello tradizionale mi sembra 160 comunque comunque sia il nostro vino tiene una grande purezza e la caratteristica della foia è che gioca molto molto sull'eleganza è un barolo che gioca sul floreale che gioca sulla beva è un po' quello che ti aspetti da da un barolo classico che abbia una bella beva scusa lo so che rischio di sembrare d'autologico diciamo le cose come stanno non mi venire a dire che i baroli tradizionali hanno tutti questa piacevolezza di beva questo è un vino veramente eccellente è un vino in cui riesco a percepire tu hai parlato di eleganza io non so se quello che ti sto per dire lo gradisci o non lo gradisci io ti dico da un certo punto di vista c'è eleganza ma da un altro punto di vista c'è una schiettezza impattante in maniera immediata cioè questo è un vino che tu non puoi valutare in maniera diversa da quello che lui ti presenta immediatamente intanto ritorna lo sciroppo da marena diluito qui ovviamente lo spettro della frutta si ampia partendo da ripeto uno sciroppo da marena diluito fino ad arrivare con tutti i passaggi intermedi quindi fra linea di bosco ribes rosso eccetera eccetera fino ad arrivare ad una melagrana o addirittura un'arancia sanguinella poi c'è la componente floreale qui sì che c'è componente floreale ce n'è tanta qui c'è la violetta qui ci sta il nasturzio qui c'è anche una certa balsamicità di felce ad esempio e poi c'è la componente speziata qui c'è componente speziata di livello veramente molto interessante perché è una speziatura aromatica non è la speziatura del pepe nero per intenderci ma è una speziatura che tocca alcuni precursori aromatici che a me fanno impazzire come ad esempio un tabacco balkan sobrain piuttosto che un incenso palosanto palosanto è un incenso brasiliano particolarmente aromatico molto profumato del cuoio di vacchetta perché dico cuoio di vacchetta perché il cuoio normale quello delle cinte per dire ha un odore più scuro più cupo il cuoio di vacchetta invece è il cuoio quello più delicato quello più gentile ed elegante e tutto questo poi si traduce ovvero più che tradursi si completa in bocca con una dimensione tattile spettacolare in cui esiste un tannino sicuramente più presente ma più elegante rispetto all'informale e tu mi dirai è per forza ma infatti me lo sarei aspettato non nascondo che questo me lo sarei aspettato ma poi la cosa bella è che nel palato al di là di una certa componente se mi passi il termine sapito iodata questo vino si gioca in un divertentissimo passo a due tra la acidità citrina da una parte e dall'altra una morbidezza glicerica che ti dà quel senso di alternanza fra acido e dolce in bocca e con tutto questo sentore di massaggio palatale dato dalla morbidezza per chi ci stesse seguendo un vino che secondo me non merita stramerita l'assaggio Francesco grazie io sono quasi guarda sono toccata da questa descrizione sono molto contenta che sia registrata così me la potrò riascoltare annotandomi ciò che hai detto perché è veramente hai dato una descrizione molto complessa ritrovo quando quando tu hai nominato i vari sentori li ritrovo li ritrovo non sono così brava come sei tu grazie troppo gentile e adesso andiamo al barolo quello dei barolo boys dai andiamo andiamo raccontaci un po' dici qualche cosa su questo vino arborina questa è l'arborina per per fare il cru utilizzo la parte a sud della collina è quella che prende il sole tutto il giorno per cui in generale l'arborina avrà sempre un grado alcolico leggermente più marcato rispetto alla foia è un vino dalla spalla un po' più larga anche per il fatto che utilizzando una fermentazione breve con la massa in movimento sia un'estrazione un po' diversa un'estrazione di un tannino che è un po' più è sempre presente perché comunque è un tannino molto presente ma è un po' meno squadrato e anche il gusto di frutta è un po' più intenso infatti paragonando i due vini di solito l'arborina ha un carattere un po' più sanguigno un po' più un po' più cicciotto un po' più potente gioca più sulla potenza allora guarda invece la foia gioca un po' di più su sentori sfaccettati questo è un po' più bomba hai anticipato quello che avrei voluto dire io ma nessun problema dire che ci sia una differenza come il giorno e la notte fra questi due vini sarebbe dire una balla cosmica la impostazione o più volgarmente la mano si sente che è una mano comune io ho evitato di dirti una cosa volevo prima assaggiare il vino e poi dirtela io ho un po' di paura quando si usa il legno piccolo perché il legno piccolo tu sai meglio di me che se usato non in maniera efficace può marcare con il suo sapore il vino e io sinceramente quando sento il sapore di Beric mi annoio in una maniera mortale di bere con il vino anche io invece devo dire in questo vino la Beric non si sente minimamente segno di grande sensibilità produttiva da parte tua dov'è che questo vino si differenzia rispetto al primo Barolo e come hai detto tu traduciamo questa spalla che cosa vuol dire che ha una spalla maggiore la foglia rispetto all'arborina vuol dire che intanto partiamo dagli odori qui non è lo sciroppo di amarena diluito ma l'estremo più dark fruttato di questo vino è la prugna cotta e la amarena non arriva fino all'arancia sanguinella ma si ferma un pelino prima quindi si ferma sulla melagrana per quanto riguarda i fiori non è più violetta ma è pot purri di violetta per quanto riguarda le spezie non è più cuoio di vacchetta ma è cuoio scuro non è più incenso palosanto ma è incenso tradizionale e poi ci sono degli aromi in più che a me piacciono molto che sono uno la liquirizia e due quello che secondo me è la chiave interpretativa di questo vino il ramo verde di china quando parlo di ramo verde di china intendo dire che in un vino è presente questo sentore vegetale verde che è come un fulmine in mezzo ad un cielo di notte ha proprio questo impatto immediato nel palato che però arriva e passa via in un battito di ciglia lasciandosi dietro la coda e cos'è la coda è la china è la china frutto che invece è una sensazione scura infatti questo ramo verde di china è uno simoro olfattivo vivente sarebbe quasi noioso dirti per l'ennesima volta complimenti per cui non te lo dico però sappi che lo penso grazie sono felicissima grazie allora cara Nadia siamo quasi al termine del nostro incontro ho una curiosità e due domande la curiosità era se voi facevate accoglienza in cantina noi facciamo delle si accogliamo gli amanti del vino che vogliono venire con degustazione scusa una premessa l'accoglienza in cantina e mi rivolgo a chi la vuol fare è a pagamento o non è è a pagamento eh no appunto l'accoglienza deve essere a pagamento l'ho fatta per anni non a pagamento perché non mi piaceva questa cosa cioè io alla fine sono una cantina non voglio che la gente pensi che io sono lì per accoglierli come modello ristorazione bar quello che è cioè io sono la cantina faccio il vino e quello è il mio lavoro però ultimamente le langhe sono diventate molto turistiche per cui rimane molto difficile la gestione di queste visite perché in passato ce n'erano poche e facevano piacere anzi fanno piacere anche adesso però adesso diventa veramente tante volte un lavoro nel senso che non si riesce più a a gestire il flusso di persone che arriva in cantina e allora abbiamo messo qualche paletto e per questo appunto però diciamo che sono comunque insomma sempre sempre molto abbordabili e a me piace quando le persone vengono mi piace farli farli star bene nel senso ma sicuramente però come dire senza voler fare cicero prodomomia però una cosa è mio padre che va a visitare una cantina assaggia due tre vini e poi si porta via 500 euro di vino non voglio fare un discorso meramente economico però una cosa è questo una cosa sono quelli che addirittura vanno in cantina vogliono fare la visita non si portano via neanche una bottiglia di vino scusa ma hai toccato un tasto che veramente cioè in passato era così la gente andava in cantina non per passare il tempo andava in cantina per comprarsi del vino e portarselo a casa cioè in passato era così non c'era il concetto di andare in cantina a passare la giornata non esisteva io mi ricordo anche i clienti di mio padre che venivano dalla Liguria da Milano si prendevano la giornata venivano su compravano il vino poi andavano a mangiare da qualche parte e il loro obiettivo era magari farsi sì la giornata nelle Langhe ma portarsi a casa quello che poi era il vino dell'anno oggi invece non c'è più questa fedeltà chi viene in Langha ha piacere di assaggiare i vini di diversi vinaioli si porterà a casa qualche bottiglia ma di diverse cantine in modo tale poi di fare i confronti sul tavolo così tante persone vengono anche proprio solo per curiosare perché hanno del tempo da spendere invece di andare al cinema vengono fino in cantina a vedere come butta e quindi è stato anche per questo che è stato adesso quasi tutti fanno pagare le degustazioni perché ovviamente noi lì ci lavoriamo e in qualche modo dovete rientrarci bravo cioè il tempo che noi togliamo il nostro lavoro lo dobbiamo investire in un modo utile e a me va bene che anche il neofita venga in cantina perché ci manca non è che devono solo venire super esperti però tutto quello che ho pagato è più valorizzato sicuramente e bisogna capire che insomma l'attitudine cioè per venire in cantina bisogna avere un'attitudine giusta soprattutto se si va i piccoli produttori che si trovano a smenarsi fra mille mille attività alla luce di questa curiosità eccoti le ultime due domande la prima in netta connessione con la curiosità che ti ho chiesto di soddisfarmi è appunto se un è un appassionato fa una bella gita in Langhe perché dovrebbe scegliere di andare a visitare a pagamento l'azienda agricola di Nadia Curto guarda ci viene chi cerca un qualcosa di familiare un qualcosa di autentico e che ha una certa sensibilità verso il nostro mondo ok e l'ultima domanda se un sempre lo stesso un appassionato trovasse o sullo scaffale della sua enoteca di fiducia o nella carta vini di un ristorante in cui è andata a cenare un vino firmato da te immaginati per un attimo in qualità di sommelier di quel ristorante o di sommelier di quell'enoteca e spiegagli perché deve comprare quei vini firmati da te e non altri vini oh mamma mia che domanda difficile guarda perché per fare un sorriso per per versi una bottiglia che che gli riempa il cuore insomma che ti pare dolgo eh certo no 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 se fa bene a berlo glielo dico io ottima risposta bene non mi rimane molto altro da aggiungere se non ringraziarti cara Nadia per essere intervenuta a questo format storie di vino e viticoltori grazie mille grazie mille a te Francesco è stata un'esperienza molto molto bella so che io faccio parte di un progetto molto ampio dove prevederà proprio l'intervento di di molti produttori ti auguro tutto il meglio perché stai dedicando molto al nostro mondo sei un un tassello che sicuramente farà la differenza e ti ringrazio per quello che stai facendo adesso mi sono nudi a me i ponfi che bello grazie e a me non rimane molto altro da aggiungere se non ringraziarvi per aver assistito a questo episodio vi rimando alla settimana prossima sempre con storie di vini e viticoltori arrivederci a Grazie a tutti.